Buongiorno a tutti. Il popolo britannico nella giornata di ieri ha scelto. Noi rispettiamo questa decisione. Ora si volta pagina. È un giorno senza precedenti, un giorno non facile, ma l'Europa ha dimostrato nel corso della sua storia di essere più forte di ogni e qualsiasi difficoltà. E sono qui per dire che l'Italia farà la sua parte nel percorso che oggi si apre. Il Governo e le istituzioni europee sono nella condizione di garantire con qualsiasi mezzo la stabilità del sistema finanziario e la sicurezza dei risparmiatori. E del resto l'Italia è tornata solida. Oggi ha un dovere. Il nostro Paese ha il dovere di offrire questa solidità anche agli altri partner europei. E per questo siamo impegnati fin da domani con i ministri degli esteri, a cominciare dai ministri degli esteri dei Paesi fondatori. E poi dal lunedì, quando incontrerò la cancelliera Merkel e il presidente Hollande a Berlino. Grazie.